Torna a Castellabate la tanto attesa notte blu organizzata dall'assessorato turismo e cultura e dal gruppo commercianti riuniti. Un appuntamento consolidato dedicato anche al vessillo FE e la ventunesima bandiera blu che attesta l'eccellente qualità delle coste e delle acque di balneazione. L'edizione 2019 prevede un mare di iniziative grazie a un programma ricco di allegria. Si parte dalle ore 21 con le postazioni che animeranno il centro by night tra Corso Matarazzo, Lungomare Perrotti, Lungomare De Simone e la spiaggia Marina Piccola fino a Notte Fonda. Un lungo percorso a tappe che accompagnerà il pubblico tra le attività commerciali e i pubblici esercizi che rimarranno aperte con interessanti promozioni e momenti di intrattenimento con musica dal vivo, animazione, esibizione di ballo, mercatini artigianali, spritz and music e DJ set. Il clou della serata condutta da Guglielmo Capasso sarà la cerimonia istituzionale della consegna da parte dell'amministrazione comunale della Bandiera Blu all'Associazione Pescatori di Castellabate sulla spiaggia di Marina Piccola alle ore 23, preceduta dall'esibizione di Filo Vals, cantautore e chitarrista che spopola sul web. Chiuderà la serata la tribute band Vasco Rossi Vivere, una notte che si tinge di blu per valorizzare le nostre acque premiate dalla Bandiera Blu e da tanti altri riconoscimenti come la Bandiera Verde e le Cinque Vele di Lega Ambiente, dichiara il vice sindaco delegato al turismo, cultura, commercio e attività produttive Luisa Maiuri, una notte particolare che darà il benvenuto ai turisti e che sarà di grande supporto ai pubblici esercizi locali. Il presidente del gruppo commercianti riuniti Antonia Passaro dichiara invece la notte blu rappresenta un momento importante per le attività commerciali che grazie ad iniziative promozionali studiate ad hoc renderanno la serata di shopping e divertimento ancora più interessante e movimentata.